20 centesimi sono pochi ma possono diventare tanti se siamo in molti paga i tuoi bollettini presso il negozio City Post e Finance di Via Voltattorni 69 a San Benedetto del Tronto e sostieni la tua squadra del cuore City Post e Finance e San Benedettese insieme si diventa più forti Buon pomeriggio dallo stadio Rivera delle Palme di San Benedetto del Tronto quattordicesima giornata del campionato di serie D Girona F ha da invertire la rotta la Samba arriva da due sconfitte consecutive che hanno portato al cambio di allenatore è stato sonerato mister Mosconi nel suo posto mister Silvio Paolucci quanto riguarda le scelte di mister Paolucci cambia poco il modulo è lo stesso 4-3-3 i protagonisti sono gli stessi almeno in questa giornata tra l'altro la Samba si è già mossa sul mercato assicurandosi un paio di giocatori under uno di questi è in panchina e un giocatore over cioè Jonathan Alessandro che è qui in tribuna seguita la partita dalla prossima settimana sarà a disposizione di mister Paolucci e allora la Samba che si era full hop tra i pali Baldinini sarà il terzino destro dunque torna in difesa per cercare un po' di dare esperienza vista la squalifica di Pepe il terzino sinistro sarà Lobosco i due centrali Borghetti e Vallorani a centrocampo girano Borgese al centro Carteri come mezza alla destra Cichella come mezza alla sinistra in attacco non cambia nulla rientra Napolano ma il tridente è sempre quello Napolano Tozzi-Borsoi di Paola per cercare di fare mare al Matelica adesso però ci fermiamo c'è un minuto di raccoglimento per il capitano della Stella Bianca morto tragicamente in settimana invitiamo tutti gli spettatori ad alzarsi in piedi e a dedicare un caloroso applauso alla memoria del giovane comandante del pescareccio Stella Bianca Viglio Capriotti praticamente il comparto messo nel discorso la chiamenetese calcio intende ricordare tutti i marinai chiamenetesi che lavorando con immensa fatica i grandi sacrifici hanno purtroppo trovato una tragica morte in mare i funerali di Pio Caciocchi verranno domani ad ore 15 verso la cattedrale Madonna della Marina a chiamenetese il minuto era per Livio Capriotti come abbiamo detto una tragedia che ha colpito la marineria sanbenedettese abbiamo dato lettura della formazione della Samba diamo anche quella del Matelica Matelica che ha tanti tanti ex rosso-blu parliamo ovviamente giocatori del calibro di cacciatori e pazzi che però sono in panchina in campo mister Franco Gianangeli schiera spitoni tra i pali con il numero 2 Cessolon con il 3 Bucciarelli con il 4 Lazzoni con il 5 Gilardi con il 6 classe 77 Ercoli con il numero 7 Lanzi con l'8 Moretti con il numero 9 Alex Ambrosini con il 10 Mandorino e con l'11 Vrioni tutto è pronto i fotografi abbandonano il terreno di gioco Sambin consueta maglia rosso-blu Matelica in completo bianco il direttore di gara signor Marchetti della sezione di Ostia Lido controlla che tutto sia in ordine da il via all'ostilità il tiro di Mandorino direttamente sul fondo parte Napolano Baldinini prova a spizzarla non ci riesce viene anticipato non è finita Vallorani Cichella attenzione fasi confusi è un fallo di mano Mucchio selvaggio in aria Manapolano palla lì Tozzi Borsano anticipa il portiere la palla è ancora lì Di Paola poi Borghetti ma l'arbitro ha visto un fallo peccato perché questa deve essere un'occasione interessante per la Samba siamo già da altra parte Moretti apre per Bucciarelli occhio c'è superiorità sulla sinistra Bucciarelli Bucciarelli sinistro buon per noi la colpisce male Borghese Globusco mette il pallone dentro Di Paola di testa e il pallone che termina sul fondo prima occasione per la Samba Tozzi Borsoi prova ad andare al disturbo ci riesce Tozzi Borsoi esce il portiere ed è bravo Spitoni a metterci le mani perché Tozzi Borsoi lo stava per scavalcare con un colpo di testa palla per Di Paola occhio il pallone lì Di Paola Di Paola prova a servire Napolano poi cade a terra Di Paola ostacolato nettamente da Bucciarelli il direttore di gara però lascia giocare non è male il metodo di giudizio del direttore di gara comunque lascia molto a giocare poi ovviamente in queste decisioni c'è da stabilire se il contatto c'è o meno qui invece c'è un ottimo e finisce qui 0-0 finisce qui il primo tempo piovono fischi sulla Samb non un grande spettacolo questi primi 45 minuti ci auguriamo di meglio nella ripresa squadre che vanno a riposo dunque su 0-0 noi ci sentiamo tra poco per i secondi 45 minuti tutto pronto per i secondi 45 minuti ci auguriamo di vedere uno spettacolo migliore in questo secondo tempo primo tempo contratto da parte di entrambe le squadre con la Samb che ha avuto delle difficoltà insomma difficoltà che sono viste anche domenica scorza a Chieti con i piedi full hop Tozzi Borsoi attenzione Napolano trova Di Paola Di Paola Di Paola controllo del pallone e poi va a colpire Gilardi che è stato bravissimo ad aspettare Carteri per Baldinini il cross di Baldinini palla viene alzata qui Napolano viene scalaventato a terra in modo clamoroso Borgese ha preso la destra per Baldinini ancora Borgese occhio perde un brutto pallone Borgese e lancia Ambrosini solo contro Fulop Ambrosini pallone sul fondo ma Borgese non può continuare a perdere questi palloni recupera il pallone poi Tozzi Borsoi Napolano anche questo break della Samba Napolano per Franco Franco con il sinistro mette il pallone sul secondo palo Di Paola la sponda c'erano due giocatori della Samba va Franco palla sul primo palo Baldinini rete ha segnato la Samba Baldinini anzi Carteri è stato l'ultimo a toccare il pallone Carteri è al trentesimo del secondo tempo la Samba è avanti un gode che può essere fondamentale questo Gli è tutto Lazzoni allora parte il contropiede di Padovani Padovani per Tozzi Borsoi Tozzi Borsoi Tozzi Borsoi la finta Tozzi Borsoi il destro Tozzi Borsoi Samba 2 Matelica 0 Romano Tozzi Borsoi vediamo chi va a abbracciare va a abbracciare Alvaro Arcipredi gli uomini più criticati di questa settimana forse di queste ultime settimane Tozzi Borsoi Pazzi Pazzi centralmente per Gliacchetta occhio è bravissimo bravissimo Baldinini in scivolata a toccare il pallone qui Mangiola si dispera ma c'è poco da disperarsi perché l'intervento è stato nettamente sulla palla e allora probabilmente anzi finisce qui sicuramente la Samb dopo una gara sofferta piega al Matelica 2 a 0 grazie alle reti di Cartere di Romano Tozzi-Borsoi il miglior viatico per la gara di domenica prossima era un successo il successo è arrivato e allora finisce 2 a 0 la Samb che adesso attenderà i risultati di domani e poi si preparerà per Macerazese-San Benedettese in programma domenica prossima l'Elvia Recina per questa gara è tutto io vi saluto, vi do appunto a domenica prossima applausi attrazione Grazie a tutti.